Precari del comune di Comiso, l'ultima parola aspetta al giudice del lavoro, il ministero non si pronuncia sulla loro stabilizzazione. Emergenza idrica ragusa è ancora a crisi, legamente invita i cittadini ad evitare gli sprechi. Elezioni amministrative si vota il 21 e il 22 aprile, mossa sorpresa del presidente Crocetta, possibile coincidenza con le provinciali. Università, il Consiglio Comunale di Ragusa approva la bozza di accordo transattivo, modificato anche lo statuto del consorzio universitario. Prefettura, cerimonia per il giorno della memoria, consegnate medaglie d'onore e ricordo di due cittadini rinchiusi nei lager. Nuovo appuntamento con l'informazione di Free News, benvenuti. In apertura lo avete sentito dai titoli la situazione dei precari del comune di Comiso. Ieri c'è stato l'incontro a Roma al ministero degli interni, ma la matassa ancora non è stata sciolta. Si attende a questo punto la sentenza del giudice del lavoro che si deve esprimere sulla legittimità della clausola di prestabilizzazione. L'ultima parola per la stabilizzazione dei precari, spetta al giudice del lavoro. Dovrebbe essere questa la soluzione che risolverà una volta per tutte l'intricata vicenda dei 48 dipendenti ex COCOCO del comune di Comiso. Ieri c'è stato l'incontro a Roma al ministero dell'interno, al quale hanno preso parte gli amministratori e i rappresentanti sindacali. La commissione del di Castero ha valutato attentamente la situazione molto complessa e ha deciso momentaneamente di non pronunciarsi e di attendere prima l'esito del ricorso presentato da alcuni dei precari al giudice del lavoro, i quali chiedevano il rispetto della clausola di prestabilizzazione inserita all'interno dei contratti triennali sottoscritti nel 2010 e che appunto prevedevano la stabilizzazione a partire dal 1 gennaio del 2013. L'eventuale accoglimento da parte del giudice sarebbe una vittoria per i dipendenti che in questo primo mese del 2013 sono rimasti a casa in trebita attesa. Alla loro gioia farebbe da contraltare un aggrave di costi per l'ente di Piazza Fontediana che nella propria pianta organica potrebbe supportare solo 25 di questi 48 lavoratori per coprire con orari part time i 12,5 posti vacanti. Dunque ancora una decina di giorni per conoscere la decisione da un punto di vista giudiziario e poi la commissione stabilità finanziaria antilocale del ministero farà le proprie valutazioni. L'aspetto fondamentale in ogni caso riguarda la copertura finanziaria che l'ente dovrà garantire, considerando la situazione del dissesto, la cosa appare molto difficile. Torniamo ad occuparci adesso dell'emergenza idrica a Ragusa. La situazione è ancora critica. Oggi è previsto un nuovo incontro in prefettura su cui sono puntate le speranze della possibile riapertura di uno dei due pozzi chiusi. Continua ad essere particolarmente critica la situazione idrica a Ragusa. La chiusura di due dei sei pozzi che alimentano la rete idrica cittadina ha messo in ginocchio la città. Interi quartieri sono a secco e la gente non sa più come gestire la situazione. Diverse centinaia sono infatti le richieste al giorno ai numeri messi a disposizione dal comune ma anche ai servizi privati. Nove sono le autobotti che ogni giorno cercano di soddisfare tutte le domande che arrivano ma molte rimangono richieste insoddisfatte ragion per cui non resta che rivolgersi appunto ai privati. Il servizio autobotti è stato comunque potenziato grazie anche ad un accordo con la prefettura raggiunto ieri durante un incontro con la protezione civile comunale e il dipartimento regionale ai vigili del fuoco. A tal proposito ricordiamo i numeri di telefono a cui rivolgersi. In caso di strutture pubbliche, disabili ed esercizi commerciali si può contattare lo 0932676882 disponibile negli orari 8.14 e 15.18 mentre se si tratta di condomini e privati sono state attivate due linee telefoniche 0932676885 e 0932676883. Oggi intanto è previsto un nuovo vertice a palazzo di governo per fare il punto della situazione. La speranza è che uno dei due pozzi incriminati, il B, venga riaperto poiché le analisi pare mostrino che la situazione sia tornata a livelli normali. Il B1 invece resterà chiuso. La procura continua nel frattempo reindagini per appurare eventuali responsabilità. I sopralluoghi dei Nassi in questi giorni continuano senza sosta nelle varie aziende agricole per verificare il corretto smaltimento dei liquami animali. E sull'emergenza idrica a Ragusa abbiamo sentito il presidente di legambiente Ragusa, Antonino Duchi. Vediamo. Continua l'emergenza idrica a Ragusa. Possiamo spiegare il perché si è arrivati a questa situazione e quali sono i consigli che voi di legambiente date per cercare di superare l'emergenza? Allora, la situazione a cui si è arrivata è sicuramente dovuta al fatto che non è stata fatta attenzione, non si è controllato la gestione del territorio, quindi si è permesso che liquami agricoli, diciamo di aziende agricole, venissero sparsi in modo evidentemente controllato in aree in cui si ricaricavano queste sorgenti. Quindi in questo caso sono state fatte, appunto, arrivate a inquirare i sorgenti e anche Pozio, oltre al corso d'acqua che è il torrente Ciaramita. Quello che noi possiamo dire intanto è di attenzionare il problema dell'acqua a tutti i cittadini. Questa emergenza deve fare cambiare l'atteggiamento rispetto all'acqua che è un bene comune, quindi da una parte a livello di cittadini di non sprecarlo, ma a livello di istituzioni di gestire adeguatamente questo bene e quindi il territorio da cui esso deriva. In particolare noi chiediamo una gestione finalmente partecipata dell'acqua, non può essere gestita solo dagli enti, ma ci deve essere un'apertura al territorio, quindi alle associazioni di tutti i tipi, quella degli agricoltori, le associazioni ambientaliste, in modo tale che questo bene comune venga realmente gestito in modo comune. E abbiamo approfondito la situazione che si è venuta a creare a Ragusa ed esaminato lo stato idrico dell'intero territorio provinciale con il presidente di Legambiente Duchi all'interno della nostra rubrica di approfondimento Free TV. La puntata andrà in onda il prossimo lunedì alle 15.20, 17.40 e 21. È un invito al risparmio di sprechi d'acqua, arriva anche dall'associazione dei consumatori Adiconsum che inoltre si dichiara pronta a chiedere un risarcimento al comune di Ragusa. Stiamo vagliando l'opportunità di chiedere un risarcimento per conto dei cittadini per l'aggravio di spesa sostenuto. Adiconsum Ragusa scende in campo e si pone accanto ai cittadini sulla questione emergenza idrica a Ragusa. L'associazione di consumatori innanzitutto sollecita l'amministrazione a voler potenziare il servizio di rifornimento pubblico con ulteriori mezzi e qualora si rendesse necessario anche con l'affidamento del servizio di approvvigionamento idrico a ditte esterne con sgravio nei confronti dei cittadini consumatori e poi chiede di conoscere la dinamica che ha causato l'inquinamento delle falde a tal punto da pregiudicare la salute umana. Ma l'associazione si rivolge anche ai cittadini che attualmente non vivono queste emergenze e che dispongono dell'acqua senza alcun limite chiedendo loro di fare un uso responsabile della risorsa idrica con piccoli accorgimenti quotidiani. E a proposito di acqua ancora polemiche a vittoria per l'aumento del canone idrico. Non solo i nuclei familiari ma anche artigiani e commercianti stanno risentendo della scelta dell'amministrazione comunale. Dure le critiche che arrivano dalla CNA. Proseguono a vittoria le polemiche sull'aumento del canone idrico a risentire dei rincari non solo le famiglie ma anche gli artigiani e gli imprenditori. Per questo motivo la CNA è scesa in campo ed ha chiesto spiegazione all'amministrazione comunale. È mai possibile? Si chiede all'organizzazione di categoria che un parrucchiere abbia 200 clienti al giorno? In poche ore numerosi titolari di attività che a vittoria operano nel settore accongiatura, parrucchieri e barbieri hanno risposto positivamente all'invito che la CNA ha rivolto tramite Facebook. È emersi immediatamente dagli interventi, dice il presidente della CNA Giuseppe Santocono, come la volontà dell'amministrazione sembra essere quella di colpire le imprese che operano nella legalità e che stanno vivendo una difficoltà economica che non conosce precedenti. La crisi imporrebbe un calo delle tasse, qui invece si risponde aumentando l'imposizione. Questa scelta che gli amministratori hanno fatto all'unanimità con la delibera di giunta 159 del 23 marzo 2012, aggiunge il responsabile organizzativo Giorgio Stracquadaneo, evidenzia come i consumi idrici siano stati calcolati in modo presunto, senza guardare la realtà. Secondo gli amministratori un'impresa di parrucchiere consuma presumibilmente 2000 litri d'acqua al giorno? Secondo questa teoria, ipotizzando un utilizzo di 10 litri d'acqua per ogni cliente, ogni accongiatore ospita circa 200 persone al giorno. La questione del canone idrico deve essere affrontata dal Consiglio Comunale che sia in prima sia in seconda convocazione non si è svolto per mancanza del numero legale. E intanto in questi giorni per evitare l'arrivo delle more i cittadini hanno cominciato a pagare il canone, ma il malcontento sta crescendo in maniera diffusa. E adesso cambiamo argomento. Importante novità in vista delle prossime elezioni amministrative in Sicilia. Il Governo regionale ha deciso infatti che si voterà il 21 e il 22 aprile. Stessa data probabilmente anche per le provinciali, anche se in questo caso bisognerà aspettare la riforma degli enti. Il 21 e il 22 aprile si vota per le elezioni amministrative e forse per le provinciali. Mossa a sorpresa della giunta regionale guidata dal presidente Rosario Crocetta, che ha deciso la data in cui si svolgeranno le prossime elezioni. Crocetta infatti ha deciso di anticipare la consultazione elettorale a fine aprile, decidendo per domenica 21 e lunedì 22. Dunque a Ragusa, Modica, Comiso e Cate si voterà per scegliere il nuovo sindaco fra meno di tre mesi. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per il 5 e 6 maggio. I partiti adesso sono molto impegnati per le elezioni nazionali e solo dal 26 di febbraio potranno dedicarsi a pieno ritmo per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. E sempre ad aprile la provincia di Ragusa, al momento commissariata, sarà chiamata a rinnovare gli organi con il nuovo presidente a Palazzo di Viale del Fante, il consesso provinciale. L'anno scorso Raffaele Lombardo decise di commissariare l'ente in attesa della riforma o della possibile eliminazione da un punto di vista della rappresentanza politica elettiva. Si parlava infatti di possibili consorsi tra i comuni o di un organo formato da rappresentanti scelti dai vari consigli comunali. Alla fine la Sicilia è regione a statuto speciale. Ha optato per il mantenimento di questi enti, anche se resta da capire come saranno riformati e se ci saranno i tempi per poter andare al voto in una scadenza così vicina. Resta sempre valida l'ipotesi di una proroga del commissariamento fino ad ottobre. E a proposito di politica, in queste settimane c'è una corsa sfrenata tra i vari esponenti politici per accaparrarsi il simbolo della lista crocetta presidente, ovvero il megafono. Tra gruppi promotori e nuovi ingressi la situazione potrebbe presto diventare ingestibile, specialmente in vista delle elezioni provinciali e comunali. Tutti insieme appassionatamente sotto il megafono. La lista di crocetta dire da fuori dal cilindro nelle ultime regionali. Comincia a fare gol a tutti. Alle prossime politiche il simbolo sarà utilizzato anche al Senato in Sicilia, con l'obiettivo di fare eleggere Giuseppe Lumia e qualche altro esponente che non ha trovato posto all'interno del PD o che ha deciso di virare a sinistra, così come ha fatto Nello Di Pasquale. E' cominciata la corsa per accaparrarsi il simbolo che è molto ambito, soprattutto nei singoli territori in vista anche delle amministrative e delle provinciali. Tra i promotori nella provincia eblea c'è sicuramente il gruppo di Vittoria che fa capo a Fabio Nicosia, l'assessore Fiore, inserita anche nella lista al Senato come candidatura di servizio e tanti altri che pur avendo la tessera del PD vogliono giocarsi anche quest'altra carta. In consiglio comunale infatti è stato creato un gruppo denominato il megafono. A Ragusa Nello Di Pasquale è stato il più veloce di tutti. Prima che qualcuno del PD potesse intestarsi il simbolo, l'ex sindaco, senza pensarci su due volte, ha deciso di lasciare il gruppo di territorio all'arse e di aderire alla lista crocetta. Una mossa che ha disorientato i fedelissimi di Di Pasquale e anche nuovi aderenti come il consigliere comunale di Vittoria Giovanni Lombardo. E sì, perché a livello regionale Di Pasquale è nella lista crocetta, mentre a livello locale e territorio non si sa bene con che alleato e da che parte stia. In attesa di una decisione si utilizza la frase di circostanza lavoriamo e faremo alleanze per il bene della cittadinanza. Insomma, troppi galli in un pollaio. C'è la pubblicità tra poco.